buongiorno buongiorno ragazzi eccoci qua per farvi vedere la pirolitica a pelle dentro la stufa economica ecco cosa succede che voi dite sempre cosa succede se la pirolitica vedete produce gas questo gas se non è cioè non si infiamma giusto non si accende se è dentro la vostra stufa vedete come si spegne ok voi siete via cosa succede se questo gas non non si accende ok ve l'ho voluto far vedere se questo gas non si accende vedete come si spegne si è spento ok e fa fumo ok ora abbiamo fino di pena un po di ossigeno allora vedete cosa succede si succede un gran casino perché se voi andate via e lasciate la stufa che non funziona adesso si vede un po di riflesso adesso sono qua per terra adesso ok quel gas lì cosa succede secondo voi se voi lasciate produce gas e fumo giusto ok succede un gran macello perché se la saturazione della della stufa si ri e cioè si satura la stufa di questo gas e di di questo fumo insomma succede un macello per chi non sa usare le pirolitiche ancora anche stamattina ho ricevuto una domanda ma tu perché perché la usi se è pericolosa la uso perché so insomma calibrare abbastanza bene cioè l'ossigeno so calibrare abbastanza bene non so io cioè ve lo auguro che non succede nulla però non vi dico che sia una buona idea di metterle dentro le stufe o dentro in casa quindi se non sapete usarle bene avete visto che si spegne si possono spegnere e sono guai perché andate lì con un fiammifero oppure con un accendi poi cosa succede succede che prende fuoco salta un po per aria la stufa niente di che magari si spacca qualche pezzo di ghisa vi potete bruciare gli occhi cioè bustionare gli occhi le mani succedono dei casini quindi state attenti fate mare per non passare un male di guai insomma state tensi attenti 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 non finirò mai di dirvelo ok quindi ora accendiamo io sono qua per terra quindi non c'è bisogno di fare tutte ste 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 polemiche che c'è la stufa perché la usi perché 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 noi che studiamo insomma usiamo le perolitiche sappiamo usarle cioè perché se se si va a spegnere e lo sanno anche quelli che fanno se si vanno a spegnere sono guai quindi questo è un video un breve video insomma per farvi notare queste queste cose io vi saluto e al prossimo video ciao ciao